Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video un po' particolare, non l'avevo mai fatti, però ho deciso di, con questo prodotto, di cominciare magari questa nuova serie che logicamente non arriverà tutti i sabati, però ogni tanto ci potrebbe stare. Volevo presentarvi questo docufilm, S is for Stanley, è un docufilm molto molto bello, nel quale mi sono imbattuto qualche tempo fa, girovagando un po' su Sky, l'ho però beccato che era cominciato già da metà, quindi poi l'ho acquistato su Amazon, su Amazon mi sembra si trovi a 12-13€, quindi non è un prezzo esagerato, si trova credo anche nelle Feltrinelli, perché come vedete è edito da Feltrinelli, prodotto da Feltrinelli, quindi si tratta di un docufilm, in un contenuto c'è anche un libricino di accompagnamento, praticamente di che cosa parla questo docufilm? Non è proprio un film, non è neanche un documentario, quindi è giusto chiamarlo docufilm, parla della storia di Emilio D'Alessandro, che è stato per 30 anni l'assistente personale del regista Stanley Kubrick. Praticamente il tutto nasce da un'idea di Alex Infascelli, che qualche anno fa si trovò a fare un'intervista alla moglie di Stanley Kubrick e si è reso conto che in quasi tutte le risposte che dava la moglie di Stanley Kubrick alle sue domande, veniva citato sempre un certo Emilio. Dopo l'ennesima volta che veniva citato, lui chiese delle informazioni su questo Emilio e la moglie gli spiegò che era stato per 30 anni e passa prima l'assistente personale e poi anche il migliore amico di Stanley Kubrick. Lui lo ha rintracciato perché comunque dopo la morte di Stanley Kubrick era tornato a vivere a Cassino, la sua città natale, qui a pochi passi diciamo da Roma nel Lazio, lo ha rintracciato e ha girato questo docufilm. Docufilm che è tutto interamente in italiano, diciamo, la voce narrante, quella di Alex Infascelli naturalmente è in italiano. Emilio D'Alessandro parla in tutti i personaggi, Emilio, la moglie, quelli che vengono intervistati parlano in inglese, ma sono comunque sottotitolati in italiano. È un docufilm veramente veramente bello, lo consiglio sia a chi conosce Stanley Kubrick e vuole approfondire questa conoscenza, sia a chi non lo conosce perché non si scende molto nel dettaglio dell'attività da regista di Stanley Kubrick, ma ci si concentra molto sulla Stanley Kubrick persona e soprattutto nel rapporto che aveva con Emilio. Quindi è un docufilm pieno di emozioni, pieno di sentimenti, fatto molto molto bene nonostante sia tutto incentrato sulla figura di Emilio. Quindi per tutto il docufilm vedrete Emilio D'Alessandro seduto raccontare la sua esperienza di vita e ogni tanto ci saranno delle foto e dei video di repertorio di sottofondo. Ne esce fuori uno Stanley Kubrick diverso, uno Stanley Kubrick meno severo, uno Stanley Kubrick molto affezionato ad Emilio che ne diventa in alcuni frangenti della sua vita diciamo anche quasi dipendente perché il loro rapporto nasce come un rapporto prettamente lavorativo poi si evolve lentamente. Prima è un autista, poi è un assistente per quello che riguarda il mondo del lavoro, poi piano piano comincia a diventare un assistente personale a tutto tondo, quindi comincia ad interessarsi un po' a tutti gli aspetti della vita di Stanley Kubrick. Per tutto quanto il film vedrete le foto dei bigliettini che Stanley Kubrick lasciava ad Emilio con le richieste più svariate da cambia la lettiera al gatto a vai a comprare il pesce, a scatola ai miei libri oppure a telefono a Federico Fellini. Cioè veramente veramente di tutto ed è questo il bello. Il bello è come ne esce fuori la figura di Stanley Kubrick, come ne esce fuori la figura di Emilio D'Alessandro e veramente veramente un bellissimo documentario. Io non amo Stanley Kubrick come regista ma non è che fosse un personaggio che io avessi approfondito molto e questo docufilm l'ho apprezzato veramente tanto perché comunque te lo presenta sotto un punto di vista diverso da quello che solitamente documentari tendono a fare, quindi Stanley Kubrick non viene incensato dall'inizio alla fine ma viene sempre comunque citato in base al suo rapporto con Emilio che comunque è il vero protagonista di questo documentario. Quindi bando alle ciance, non voglio raccontarvi troppo, ve lo consiglio vivamente, ripeto costa poco più di 10 euro quindi vedete in libreria lo troverete nelle librerie e videoteche a 14,90, su Amazon costa poco più di 12 euro mi sembra 12,60 io l'ho pagato, quindi come vedete è una cifra accessibilissima, ve lo consiglio vivamente vi saluto ragazzi e ci vediamo in un prossimo video, ciao!